La politica ora è lancio di verso nord, movimento trasversale che punta a rimescolare le carte in Veneto. Attenzione alle novità e prudenza nelle prime reazioni dei partiti a livello regionale. Angelo Pangrazio. A destra la rivoluzione liberale promessa da Berlusconi è stata inghiottita dal populismo leghista. A sinistra il progetto riformista del Partito Democratico è rinchiuso nell'alveo della socialdemocrazia. Queste le premesse da cui nasce verso nord, il movimento manifesto che individua nel fallimento del bipartitismo la sua ragione d'essere e invoca le riforme a partire da quella elettorale. E verso nord si marcia in un mix politico e culturale che ha l'ambizione di rompere vecchi steccati. Persone di buona volontà di entrambi gli schieramenti che ritengono che la politica non sia la contrapposizione di tifo come in uno stadio ma sia dialogo anche tra chi la pensa diversamente per trovare una sintesi per il bene del paese. L'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari porta in primo piano le aspettative tradite degli amministratori locali. Franco Miracco è portavoce del ministro Galan e dei settori del centro-destra insofferenti dell'arrembante leghismo. Verso nord lancia un manifesto politico che parla di nuovo patto fiscale, valorizzazione dell'impresa, prospettive dei giovani, cittadinanza e gli immigrati, federalismo e intanto arrivano le prime reazioni. Hanno capito che la questione settentrionale è fondamentale, quindi facciano quello che debbono fare, noi non abbiamo nessuna preoccupazione di questo. Tutto ciò che serve ad abbattere i muri e ad aprire strade per i cambiamenti di cui questo paese e anche questa regione ha bisogno è visto con estremo favore dal mio partito. Nel PDL Giustina Destro sostiene di apprezzare il documento che ha dato vita a Verso Nord. Siamo aperti chiaramente a tutte le considerazioni positive per chi ha a cuore veramente i problemi della gente e a cuore la gente.